Sì, bentornati in questo nuovo video, siamo tornati con la serie di Brawl Stars. Ho portato Enz al grado 15 e con il nuovo aggiornamento è apparso il Basar di Tara. E va appena assorbato 80 germe, adesso andremo ad attivare la mega cassa. Andiamo ad aprire la mega cassa, 8 di senino, 20 di enzo, 21 il primo, 40 bull e 41 di piper. Ok, la cassa enorme, piper 8 bit e 4, ok. E premiamo le 100 monete, perfetto. Adesso ho solo 6 germe. A questo punto andremo a fare sopravvivenza in 2. Io ho completato le missioni dove ho vincere 6 partite con Pam. Poi altre missioni erano comprare un po' di vita agli alleati e anche a se stessi con Pam. Poi vince 3 partite con Mr. P e fare un bel po' di danno con Shelly con l'azione o ancora compilarla. Grazie. 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 due colpi è fatto fuori ok dovrebbe essere rimasta la palla che credo preso? ah non cercano la palla ok poi è la shopper delle emissioni abbiamo piper poi adesso è uscito il nuovo brawler gelindo che è di rarità cromatica nuova rarità il mio aleato è morto benissimo e dai non hai togliere tantissimo che è uscito il nuovo brawler gelato che è le auto pure morto vabbè ci si sta andiamo a fare andiamo a fare il food brawl ok siamo con un semino e un bull siamo contro un GX mattiz onesto allora vediamo di vincere questa partita perchè non ho voglia di perdere questo è il semino più scarso del mondo cosa ho fatto? l'importante è che ho fatto gol l'importante è che ho fatto gol ma posto su morire no il brawl pass 333 ecco wow ok il brawl pass penso sia una cosa molto bella così poi questa cosa che mettono le gemme fuori dalle casse beh ci può anche stare dalla megacassa poi è uscito un nuovo brawler gelindo che è di rarità cromatica andiamola a provare ok ok quindi sparavate come ok ok quindi poi vicino per farlo ok da lontano fa 720 e da vicino va probabilmente va meglio 80 invece da super ok ti metto a gregiare va 100 di danno e va di erigione ok ma carino si 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 carino poi come si muove è bellissimo scrivete sotto nei commenti se vi piace nella descrizione c'è scritto gelindo un tuttofare instancabile che sforacchia gli avversari con una rosa di pallettoni fattigli neve il vinto con la super gli sbalza all'indietro con una forata di vento ma ci sta lei ok voglio direi ma andiamo sopra grazie a tutti grazie a tutti proviamoci se fanno gol sono mitici a punto a punto grazie a tutti 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 Vabbè lì sta rosa Ma che fa questo? Madonna Non è un parola Guarda se sta partita finisce in pareggio è un miracolo Mortacisto di cavallo Oppure Quando c'è una penne questa è una cosa che non fai mai Non c'è un parola Vabbè E vedete abbiamo concluso Questo nuovo aggiornamento a pareggio è fantastico Lo scrivete sotto nei commenti secondo voi se vi piace o no Ciao al prossimo video